La serata di oggi, fermati e respira, biodiversità, resilienza e economia reale, serve a ragionare sull'attuale modello di sviluppo fondato sul paradigma neoliberista che impone un ormai con consumi di risorse insostenibili per l'umanità e il pianeta. Questo consumismo sfrenato ha imposto l'industrializzazione dell'agricoltura a discapito delle risorse del pianeta e questo modello produttivo è alimentato da una finanza senza regole che continua a finanziare l'agricoltura con logiche di profitto a breve termine speculando sul prezzo del grano e delle materie prime e creando a nuovi latifondi tramite il land grabbing. Anche la FAO recentemente ha riconosciuto che questo modello di sviluppo è insostenibile e ha indicato nell'agroecologia la capacità di dare una nuova spinta a un'economia circolare a basse emissioni e che è in grado di rispettare i ritmi di vita dell'ambiente che si ripercuote poi sulla nostra salute. Purtroppo il limite alla diffusione dell'agroecologia è dato dalla competizione scorretta dell'agricoltura convenzionale che esternalizza i costi sulla nostra salute quindi utilizzando pesticidi ma anche con lo sfruttamento del lavoro tramite il caporalato. Pensiamo per esempio a quello che c'è nel sud Italia ma anche qui nella bassa padovana. Ovviamente i cittadini e i cittadini possono scardinare questo modello tramite il loro voto col portafoglio. Tra gli ospiti di stasera dobbiamo avere anche Andrea Baranes che è il presidente della fondazione finanziatica che purtroppo non è potuto intervenire perché è impegnato anche in queste sere nel board di Finance Watch che è una ONG che fa lobby a livello europeo a favore dei cittadini nel campo finanziario per contrapporsi alle grandi banche di affari e alle loro lobby. Vorrei partire quindi con un paio di brani di Andrea Baranes presi da Café Etico che è un programma a cura del GIT di Padova che abbiamo potuto ascoltare quest'anno su Sherlock.it da gennaio a maggio. Buongiorno a tutti e come tu ricordavi uno dei termini più usati non è solo quello dei green bond ma anche greenwashing. Greenwashing letteralmente è lavare verde ovvero darci una pitturata di sostenibilità ambientale continuando invece a fare affari molto spesso anche con i fossili o con progetti che inquinano. Quindi bisogna dire green bond come tutti gli strumenti sono degli strumenti quindi ci sono degli esempi positivi in cui davvero riescono a finanziare a trovare caribali per efficienza energetica e per rinnovabili. Ci sono purtroppo molti altri casi in cui sono usati un po' per mascherare il comportamento per appunto darsi una lavata di verde e mostrare una faccia sostenibile. Faccio alcuni esempi, molte banche nel recente passato si sono dette sostenibili, green, verdi limitandosi a guardare quelli che sono gli impatti nelle loro filiali. Quindi io sarei sostenibile se metto le lampadine a basso consumo nelle mie filiali anche se poi consiglio a finanziare pesantemente l'industria del carbone o per cucchiare. Ancora i green bond, molte imprese li lanciano per darsi un'immagine verde, un'impresa che produce elettricità e diciamo che il 90% del suo business è legato al carbone e al petrolio e il 10% alle rinnovabili, in passato si finanziava emettendo obbligazioni normali, adesso può dire di emettere green bond per le rinnovabili senza cambiare di una rigola il proprio piano industriale. Poi vallo a sapere se i cosiddetti green bond vanno davvero a finanziare le rinnovabili o finiscono nel calderone in cui si finanzia anche fossili e roba del genere. Quindi questo è per dire che ci sono molti esempi ottimi però bisogna anche informarsi. Purtroppo è il singolo risparmiatore cliente delle banche che deve cercare di capire se è un vero progetto di finanza etica, di finanza sostenibile o appunto se è solo una pitturata per darsi un'immagine. Faccio un altro esempio al volo, oggi molti gestori propongono fondi che chiamano green, low carbon, quello che è e si limitano a sottopesare appena appena il proprio portafoglio di investimento rispetto a un parametro di riferimento e si danno loro stessi. Nel mercato in generale le industrie dei fossili, del petrolio, del carbone sono il 20% del totale, noi facciamo un fondo in cui sono solo il 19,9% e basta questo per definirmi green. Quindi questi vari esempi per dire per carità ci sono molti casi molto positivi di attenzione all'ambiente, alla sostenibilità ambientale e ai cambiamenti climatici, purtroppo ci sono anche molti esempi in cui la finanza cerca di così riposizionarsi senza cambiare il proprio business. Forse è ancora più pericoloso per chiudere che molto spesso la finanza considera unicamente gli impatti ambientali e i cambiamenti climatici perché possono avere impatti sui profitti e è paradossale il ribaltamento di priorità, non si considera che la finanza ha dei pesanti impatti, non si considerano che i cambiamenti climatici sono un'emergenza assoluta e una priorità per l'insieme del pianeta, me ne occupo solo per la possibilità, per i rischi o per le opportunità in termini di profitti. Ecco invece è ora di considerare molto seriamente la finanza e i suoi impatti e cominciare a considerare anche la finanza green in modo molto più serio e forse molto più trasparente rispetto a quanto si fa oggi. Vorrei chiederti Andrea, rispetto ai Bitcoin, sono la criptomoneta più famosa al mondo, però recentemente sono stati soggetti a una bolla speculativa, come è possibile? Sì assolutamente, guarda mi verrebbe da dire con un gioco di parole c'è stata una speculazione sopra perché ci si poteva speculare sopra, nel senso la finanza e la speculazione si interessa a qualunque valuta, bene, moneta, materia prima su cui ci sono forti oscillazioni dei prezzi, quindi su Bitcoin nel momento in cui c'è tanta domanda il prezzo sale e questo salire dei prezzi attira gli speculatori e quindi tutti comprano e le oscillazioni dei prezzi impazziscono. I Bitcoin e le criptomonete hanno mostrato di essere molto soggetti a questa oscillazione dei prezzi e più i prezzi oscillano ampiamente, più se io speculo posso estrarre profitti, nessuno specula sui titoli di Stato tedeschi perché non si muovono dalla loro quotazione, invece le criptomonete che sono un mercato nuovo, su cui molte persone stanno entrando in qualche modo anche una moda, ecco che i prezzi ampiano e oscillano molto velocemente ed ecco che questo attrae moltissimi speculatori, da qui anche la polla che abbiamo visto negli ultimi mesi. Ti ringrazio, vorrei chiederti anche, oltre alla bolla speculativa, esistono altre implicazioni negative legate alle criptomonete? Purtroppo sì, una anche peggiore, anche se se ne parla poco, è in qualche modo una bolla ambientale o energetica, nel senso la maggior parte delle criptomonete a partire da Bitcoin lavorano, si basano sul fatto che tutti gli utenti fanno a gara, se mi passate l'espressione per semplificare, per validare delle operazioni e in cambio ricevono dei Bitcoin come premio, anzi i Bitcoin vengono creati unicamente con questo meccanismo, io dedico del tempo con il mio computer a far girare il programma, a far girare il sistema e in qualche modo in cambio ne ottengo o posso vincere dei Bitcoin, quindi più tempo dedico, più il mio computer è potente, più tempo giro, faccio girare il programma dei Bitcoin, più possibilità ho di essere remunerato con altri Bitcoin. Ecco allora che c'è una gara e questa gara purtroppo è sui consumi energetici, sulla potenza dei computer e sulla potenza dei condizionatori per raffreddare i computer e stanno sorgendo vere e proprie fabbriche di Bitcoin in cui persone acquistano 100, 200, 1000 computer e li mettono tutti in fila unicamente per estrarre Bitcoin 24 ore al giorno. Il consumo energetico è spaventoso rispetto all'utilità reale, rispetto alle transazioni che vengono condotte e si firma che nei prossimi anni potrebbe diventare assolutamente insostenibile. Ecco allora che tutta una delle principali, se non la principale sfida oggi delle criptovalute è riuscire a trovare dei sistemi molto meno energivori per riuscire a far girare questi programmi e la validazione, la famosa blockchain in cui tutti gli utenti validano le transazioni e le operazioni realizzate. Ringraziamo Andrea Baranes per questo contributo durante le trasmissioni di Cafetico di quest'anno e come abbiamo potuto ascoltare la finanza, quella speculativa, è anche molto interessata a dei nuovi strumenti che nascono per scatenare il sistema ma che vengono poi utilizzati per altri motivi, cioè ai fini di profitto. Ovviamente non abbiamo avuto solo il contributo di Baranes ma abbiamo anche due ospiti qui stasera che sono Dimitri Feltrin che è un giornalista e documentarista che recentemente ha anche prodotto il documentario Cresceranno le sepi sull'agroecologia del Veneto e del Ferrarese. Buonasera a tutti. Ciao Dimitri. E poi abbiamo con noi anche Ugo Biggeri che è il presidente di Banca Etica. Ciao a tutti e a tutti. Ora un brano musicale, lanciamo il brano che ha dato anche il titolo iniziativa, è un brano musicale nuovo di quest'anno dei Pancreas che saranno qui allo Sherwood Festival il 30 giugno, il titolo è appunto Fermati e Respira. Ok, bentornati, siamo rientrati dopo questo brano dei Pancreas, Fermati e Respira. Iniziamo con le domande ai relatori di questa serata. Allora, caro Dimitri, nel tuo documentario e nelle tue pubblicazioni spesso viene pronunciata la parola biodiversità, proprio anche dai contadini che hai incontrato nei tuoi lavori. Spesso questi contadini hanno la vocazione di difenderla, ma di che cosa si tratta e perché è importante difenderla? Beh, sapete quando si dice che il mondo è bello perché è vario? Ecco, questa è un po' una definizione della biodiversità. Biodiversità di fatto vuol dire diversità della vita. Se trasferiamo questo concetto in ambito agricolo, la biodiversità è sicuramente uno dei temi fondamentali per chi sceglie di fare agroecologia. Perché? Perché la biodiversità si riscontra su diversi piani. Innanzitutto sul piano ambientale, ovvero viviamo in un mondo che è ricco di ambienti tra di loro diversi. Un bosco non è come una savana, un deserto non è come un prato di montagna, un alpeggio. Tutti questi ambienti diversi hanno al loro interno il concetto di biodiversità. Per cui è naturale che in un ambiente nascono, crescono e si riproducono delle specie vegetali o animali diverse rispetto a un altro ambiente. Questo concetto è fondamentale perché l'attuale sistema agricolo tende invece a fregarsene completamente della biodiversità ambientale per fare le stesse identiche colture in tutti gli ambienti. Questo paradigma comporta che poi gli ambienti debbano essere fortissimamente trasformati per essere adattati a quelle colture che sono magari state concepite in laboratorio e che da sole non riescono ad adattarsi agli ambienti. Quindi abbiamo detto un primo modo di concepire la biodiversità, quello degli ambienti. Il secondo luogo in cui si ritrova biodiversità è nel sottosuolo. E anche qui facciamo un parallelo tra l'agroindustria e l'agroecologia. Con l'agroindustria, dalla rivoluzione in verde in poi, ci siamo abituati a un unico tipo di fertilità che viene concepito nei terreni, che è quello della fertilità chimica, la fertilità indotta attraverso l'utilizzo di sostanze chimiche create in laboratorio, senza le quali i terreni rimangono impoveriti, non danno vita. Cosa vuol dire avere biodiversità nel sottosuolo? Vuol dire avere automaticamente, biologicamente, nel sottosuolo tutti quegli elementi che da soli si arrangiano a trasformare le sostanze che vengono rilasciate dalla natura e a trasformarle in sostanze nutritive per le colture che poi andiamo a portare. Quindi il diserbante, il pesticida, tutte queste fantastiche tecnologie che la generazione della rivoluzione verde non riesce ad abbandonare, perché hanno portato molta meno fatica, molto meno sudore, molto meno lavoro delle braccia, in realtà, alla lunga, stanno impoverendo fortissimamente la biodiversità del sottosuolo. La terza accezione che possiamo dare al termine di biodiversità in ambito agricolo è quella invece delle colture. Anche qui, noi ormai siamo abituati ad andare al supermercato e a trovare due, tre, quattro varietà di mele, quando in realtà, solo fino a 50-60 anni fa, di varietà di mele ne venivano prodotte in ogni cortile, in ogni orto, in ogni appezzamento di terra, di centinaia, se non migliaia, di varietà diverse. Ecco, che cosa comporta questo impoverimento della biodiversità delle colture? Comporta che, innanzitutto, non ci siano più le colture che si adattano ai diversi ambienti. Ci sono solo quelle che sono state selezionate e che quindi funzionano solo in determinati luoghi, in modo naturale. Negli altri ambienti hanno bisogno di aiuti, per forza, della chimica. Questo comporta anche, però, dei problemi di sovranità alimentare. Tante colture che adesso vengono prodotte attraverso queste sementi, prodotte in laboratorio, che vanno completamente contro il concetto della biodiversità, vabbè, ormai lo sanno tutti, insomma, non sono riproducibili, non si può riprodursi il seme di una semente prodotta in laboratorio. Che cosa significa? Che abbandonare tutte le sementi delle colture tradizionali comporta un legame di dipendenza tra il contadino, chiamiamolo contadino, o possiamo chiamarlo agricoltore, anche se poi i contadini ci tengono ad essere chiamati contadini, e chi gli fornisce la semente. Ecco, l'abbandono di questa biodiversità rende a tutti gli effetti i contadini ostaggi di chi fornisce la semente. C'è anche un altro tema, che è quello della resistenza, per esempio, ai parassiti, alle virosi. Un ambiente dove ci sono tante varietà diverse rischia meno di essere completamente distrutto da attacchi di parassiti o di virosi. Perché magari il parassita attecchisce su una varietà, ma l'altra la lascia stare. Se noi facciamo la monocultura, monocultura, una sola, diverso da diversità, se quell'annata è un'annata sfigata, è un'annata sfavorevole, si perde tutto. Se le varietà sono tante, c'è la possibilità per un'agricoltura che pensa a produrre cibo, e quindi non una merce da mettere sui container e da spedire dall'altra parte del mondo, c'è la possibilità che qualcosa si salvi. E qualcosa di sufficiente per sfamare chi sta coltivando quegli appezzamenti. Ultimissima importanza della biodiversità, le proprietà organolettiche. Forse siamo in un'epoca in cui non ci si fa più tanto caso, però chi si abitua a mangiare la verdura del contadino che ci tiene alla biodiversità si rende conto delle innumerevoli sfumature. Mentre invece chi si è abituato ad acquistare i prodotti dell'industria agricola, si rende conto che, anzi non si rende più conto che si sta perdendo una gamma di sapori enorme. E per un buon gustaglio ti assicuro che questa è una differenza rilevante. Ok, grazie Dimitri. Ora iniziamo con l'altro relatore che è Ugo Biggeri, presidente di Banca Etica. Biodiversità è un termine solitamente legato alla natura come abbiamo potuto ascoltare da Dimitri. Però anche nei comunicati di Banca Etica è spesso citato anche in ambito finanziario. E come fanno i contadini dei quali ci ha parlato Dimitri anche in questo caso è necessario per riservarla. Come mai? Ci sono tanti motivi. Il primo è che se ragioniamo del mercato, cioè del mercato come luogo di incontro tra le persone, tra le imprese, il mercato ha bisogno di diversità. Perché altrimenti non funziona. Anche i principi, direi incredibilmente, dell'economia anche più liberista ti dicono che ci deve essere una pluralità di attori che sono in grado di fare una competizione. Quindi anche qui il primo motivo per cui servono tanti attori in realtà è un motivo di buon funzionamento del mercato, dell'equilibrio della domanda e dell'offerta. Quindi sto parlando di cose assolutamente diciamo dell'economia classica. Però mentre quando abbiamo a che fare con altre attività economiche insomma non ci accorgiamo molto di questo disequilibrio beh in finanza la cosa è pesante. Paradossalmente la finanza che rappresenta la punta di diamante di un'idea anche economica e di mercato è un posto dove la diversità non esiste. Cioè ci sono una ventina di player mondiali ma forse anche meno BlackRock, Goldman Sachs la Barclay, la City eccetera eccetera che da sole controllano sostanzialmente il 90% degli scambi dei volumi finanziari nel mondo e questi sono molte volte il prodotto interno lordo. Quindi poche, veramente poche monoculture che controllano un mercato dove c'è tutta la ricchezza. Anzi se guardiamo le ultime studi la ricchezza del mondo si sta spostando sempre di più in ambito finanziario concentrandosi in poche mani e chi controlla questa ricchezza sono solo pochi grandi gruppi. Beh questo non fa bene ma non c'è bisogno di aver studiato economia non fa bene perché è stupido come cosa e fa sì che ci siano dei conglomerati finanziari che contano molto di più degli stati e guarda caso dettano le politiche agli stati. Poi c'è un tema più vicino a noi probabilmente che l'economia per funzionare bene gli scambi per funzionare bene hanno bisogno anche dell'innovazione della capacità delle persone e delle imprese di lavorare di stare su un mercato. Se costringiamo tutto il sistema a lavorare nello stesso modo è come se facessimo una monocultura di nuovo. Quindi se in realtà iperregoliamo le banche in modo tale che ma le banche cooperative facciano poco perché in realtà il modo migliore è l'SPA che l'SPA lavori soltanto con il criterio della massimizzazione del profitto che questo criterio deve essere quello del maggior ritorno per gli azionisti beh alla fine abbiamo creato un sistema in cui la diversità non esiste cioè si opera come operatori economici tutti allo stesso modo e questo non è sano perché le scelte che a volte sono le più logiche da un punto di vista della massimizzazione del profitto possono essere disastrose per la collettività possono essere disastrose per l'ambiente in generale queste banche e questa finanza non si fa domande sulle conseguenze economiche le conseguenze sociali e ambientali delle proprie azioni quindi il risultato è un risultato pessimo perché perché poi dopo è una finanza che non costruisce un futuro positivo ma anzi contribuisce in modo determinante ad avere un futuro peggiore e poi c'è una biodiversità in finanza che mi viene da dire in una battuta molto popolare non tutte le uova nello stesso paniere cioè questo è un proverbio banale però ecco in finanza ce ne siamo dimenticati ce ne siamo dimenticati anche noi cittadini che poi dopo magari veniamo abbagliati da rendimenti iperbolici di qualche cosa di qualche subordinato di una banca e non facciamo la prima regola sana che appunto come dovrebbe essere l'agricoltura che uno non punta tutto su un'unica cultura ma punta di avere più entrate da culture diverse e quindi insomma diversificare quindi sembra che di biodiversità ce n'è molto bisogno in finanza purtroppo ce n'è sempre meno ok grazie Ugo in ecologia e biologia la resilienza è la capacità di una materia vivente di autoripararsi dopo un danno o quella oppure di una comunità o di un sistema ecologico di ritornare allo suo stato iniziale dopo che magari è stata sottoposta a una perturbazione visto che ci sono un po' di temporali in questi giorni o grandi volevo chiedere anche a causa dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento dovuto all'attività industriale se gli agricoltori che hai incontrato sono stati resilienti e se nel caso lo fossero se puoi portarci qualche esempio Dimitri guarda il concetto di resilienza è sicuramente opportuno da citare quando si parla di agroecologia e anche qua io distinguerei due aspetti il primo è quello ecologico il secondo è quello bioantropologico ovvero i contadini che si sono messi a fare agroecologia dopo tanti anni di rivoluzione verde e di chimica hanno dovuto assolutamente rimettersi a trasformare gli ambienti dove fanno agricoltura perché per fare il biologico o l'ecologico non basta seminare e non dare il pesticida o il diserbante ma bisogna creare intorno tutta un'ambientazione tale per cui sia l'ambiente stesso a mettersi a disposizione quindi questi contadini sfruttano l'ambientazione per ottenere dei buoni risultati nelle loro colture il documentario mio che citavi prima si chiama Cresceranno le siepi molte volte mi è stato chiesto portandolo in giro perché le siepi che senso ha questo titolo in realtà perché senza siepi non fai agroecologia la siepe diventa un simbolo di quell'ambiente da ricostruire intorno alle colture in modo che questo principio di resilienza possa tornare a esistere nelle campagne senza le siepi che sono portatrici di umidità che frangono il vento che portano gli uccelli che portano gli insetti che magari in collina gli apparati radicali tengono sulle colline spesso tutte trasformate a vigneto che poi franano con le bombe d'acqua che cadono come in questi giorni ecco questi ambienti lasciati ai nuovi contadini dalla rivoluzione verde sono degli ambienti assolutamente sterili morti senza l'utilizzo della chimica in quei terreni non viene più su niente se un campo ci fa i mais per 20-30 anni consecutivamente senza sapere cos'è una rotazione senza metterci intorno quello che può portare vita nel campo dopo 30 anni tu lo riprendi in mano e quel terreno non ti dà nulla se non lo bombardi di chimica ecco perché i contadini gli agrocontadini hanno dovuto essere resilienti nel loro metodo di coltivare e quindi hanno ricostruito intorno alle colture ambientazioni siepi fasce inerbite dove si muovono insettini coccinelle così gli afidi se le mangiano loro dove girano le api che poi gli impollinano gli alberelli da frutto hanno fatto i laghetti perché così aumentano la biodiversità presente negli ambienti perché così ci sono gli animali che stanno bene lontano dall'acqua ma ci stanno anche bene quelli che stanno nell'acqua e questo è un lavoro assolutamente lungo è un investimento di tempo e di denaro nel senso che il terreno che dedichi a queste infrastrutture ecologiche non lo dedichi a monetizzare in prodotto da mettere sui mercati e quindi resilienti da un punto di vista ecologico ma resilienti anche da un punto di vista antropologico perché per stare sugli attuali mercati queste piccole aziende agricole che fanno agroecologia e che quindi hanno bisogno di molta forza lavoro di molte braccia di mantenere anche un prezzo alto per stare in piedi perché se no tanti saluti non si sono sicuramente potute e forse non hanno nemmeno voluto entrare nella distribuzione agroalimentare industriale hanno dovuto pensare a livello antropologico nuove forme per inserirsi all'interno dei propri quartieri delle proprie comunità e dei propri microcosmi comunitari e quindi dentro l'azienda agricola sono arrivate delle cose non nuove nel senso che nulla si inventa alla fine tutto viene riscoperto però il fatto di fare fattoria sociale fattoria didattica di quindi fare informazione verso l'esterno e di accogliere all'interno dell'azienda agricola le persone della comunità che stanno attorno all'azienda agricola il fatto di organizzarsi con i gruppi di acquisto solidale per bypassare tutta quella catena che ti porta a svalutare il prezzo della tua merce il fatto di usare anche sistemi tecnologici come le mailing list con le newsletter con le prenotazioni via mail e con le cassette di verdura pre stavo per dire pre-confezionate ma confezionate in realtà non sono pre-ordinate nel senso che raccolgo solo quello che vendo così non butto via niente ecco queste sono tutte forme di resilienza che io definisco antropologica perché queste aziende agricole si sono dovute completamente reinventare nella relazione con la comunità in cui stanno ti ringrazio Dimitri torniamo a Ugo Biggeri siamo stati soggetti a una crisi finanziaria pesantissima che ha dimostrato l'incapacità dell'attuale sistema economico a reagire agli shock la finanza etica l'economia sociale sono resilienti? ma sì sicuramente sono resilienti per una ragione abbastanza semplice da capire perché perché pensano con uno sguardo di medio lungo periodo uno dei temi della finanza che la rende poco resiliente è che la finanza ha una funzione in generale che può essere anche detta in modo nobile è in grado di anticipare l'economia che verrebbe nel futuro quindi è in grado di anticipare oggi le risorse che un imprenditore una persona una famiglia avrebbe bisogno di anni da permettere da parte per poter fare l'investimento che vuol fare invece la finanza è in grado di anticipare questo futuro perché appunto da oggi le risorse facendo una valutazione del rischio e poi gli rientrano diciamo nel tempo solo che quello che sta succedendo oggi ed è la causa alla fine di queste crisi è che la finanza sta accorciando sempre di più i tempi la finanza vuole investimenti liquidi che sono in grado di essere sempre realizzati in pochissimo tempo si spinge nelle frontiere della fast trading finance cioè di una finanza che si fa in pochi millisecondi e quindi diciamo perde di vista l'obiettivo dell'economia futura a favore del vantaggio immediato non è un caso anche queste oscillazioni questi giorni sullo spread è perché si fanno delle previsioni diciamo sull'andamento dell'economia italiana e si autoavvera oggi il guadagno che si vuol fare insomma usando una una metafora del mondo contadino è come se uno volesse prendere l'uovo diciamo dalla gallina quando ancora è dentro la gallina per venderlo come se fosse una gallina o vaiola domani questo fa la finanza ma non sai se l'uovo uscirà se la gallina lo coperà se nascerà effettivamente una gallina e non un gallo eppure la finanza ha questa tendenza esasperante a voler il risultato subito come se potesse prevedere il futuro allora banalmente anche quando finanze è realtà fragili non sono banca etica finanza è un sacco di realtà che se gli andate a guardare i bilanci insomma dove vanno questi non sono bilanci che si fa fatica che siano in pareggio in fondo all'anno però in realtà sono resistenti e resilienti nel senso che anche quando arriva una crisi paradossalmente pur avendo un bilancio fragile siccome c'è una comunità intorno ci sono le persone c'è un obiettivo strategico che non è fare i soldi ma è fare un festival fare stare la gente insieme servire delle persone in disagio fare agricoltura biologica beh allora non non fallisci hai un'ottica di lungo periodo in generale è il lavoro della finanza etica fare una valutazione del rischio perché di questo anche si tratta analizzando anche i rischi sociali e ambientali quindi indirettamente andando a guardare le realtà che hanno una visione di futuro più lungo e quindi quando hai una visione di futuro più lungo sei più resiliente cioè sei in grado di reggere maggiormente agli shock ovviamente abbinato sempre vale il discorso alla biodiversità cioè a una diversificazione però diciamo il tema della resilienza è un tema che ha molto a che fare con la finanza etica ha molto a che fare con gli orizzonti temporali con cui la finanza lavora io penso che noi oggi abbiamo un gran bisogno di orizzonti temporali un pochino più più lunghi perché ahimè ci sono tanti problemi globali che hanno orizzonti lunghi pensiamo alle disuguaglianze che portano alle migrazioni o ai cambiamenti climatici che hanno bisogno di una finanza che guardi con tempi lunghi e quindi abbiamo bisogno di resilienza questo è quello che fa la finanza etica grazie Ugo abbiamo capito dalle tue ultime risposte che ti piacciono molto le uova ma ora torniamo al nostro Dimitri l'impatto economico e sociale dell'agricologia in Veneto e nel Ferrarese è reale anche rispetto a quello che tu hai visto con il tuo lavoro cresceranno le siepi puoi portarci qualche esempio di attività agricole che hanno cambiato oltre almeno in parte l'economia del territorio e la comunità guarda l'impatto economico di questa tipologia di aziende agricole è reale perché è fuori di dubbio che esistono e che nelle proprie nicchie qualcosa spostano ma se dobbiamo parlare di un cambiamento di sistema siamo lontanissimi assolutamente lontanissimi stiamo parlando comunque di un modo di fare agricoltura e di distribuire il prodotto agricolo che è assolutamente ancora una piccolissima nicchia le influenze quelle più reali quelle più percepibili te le posso raccontare nei quartieri non nella nel grande paniere nei quartieri assolutamente accade che la presenza di una fattoria sociale che fa allo stesso tempo produzione agricola alla maniera dell'agroecologia o diciamo biologica in maniera più schietta e più comprensibile che fa anche accoglienza magari di persone svantaggiate di disabili di richiedenti asilo eccetera eccetera che allo stesso tempo fa proposta culturale verso la propria comunità ecco diciamo che queste realtà esistono alcune di queste le ho raccontate nel mio documentario e spostano economia e coscienza all'interno del quartiere in cui vivono dov'è lo spostamento dell'economia secondo me non sta tanto nel prodotto in sé sta nella relazione e nella cultura che si riesce a creare intorno al prodotto ovvero più le persone e la prossimità in questo aiuta vengono istruite anche se non è un bel termine vengono sensibilizzate su cosa voglia dire a livello ambientale sociale alimentare economico micro e macro economico su cosa voglia dire questo modello agricolo più queste persone si fidelizzano al modello che viene presentato una volta fidelizzate al modello poi si fidelizzano anche al prodotto perché come dicevo prima se il prodotto è più buono e dopo un po' non puoi non vederlo ti fidelizzi anche al prodotto e quindi quelle persone restano che cosa manca perché l'impatto sia più forte e più reale anche nei macrosistemi naturalmente io non sono un economista mi permetto di fare di formulare le mie ipotesi allora secondo me manca innanzitutto un lavoro forte di carattere culturale perché il tema del legame piatto politica non è assolutamente ancora chiaro al consumatore medio non è ancora chiaro che quello che si mette nel piatto ogni volta a mezzogiorno e a cena vuol dire a tutti gli effetti fare politica scegliere un modello di sviluppo piuttosto che un altro scegliere anche probabilmente un modello finanziario piuttosto che un altro non si è ancora capito che comprare un pomodorino a luglio in un ambiente che è predisposto a fare i pomodorini a luglio è diventare finanziatori di un certo tipo di agricoltura e di un certo tipo di mondo o comprare i pomodorini a dicembre quando non è tempo di pomodorini e quando li si deve far arrivare dall'altra parte del mondo con tutto il dispendio di risorse che non sto qua adesso a elencare ecco comprare un pomodorino o comprare l'altro vuol dire scegliere partecipare a finanziare l'una o l'altra visione del mondo le aziende agricole poi che fanno agroecologia hanno bisogno di altre cose di non ricevere concorrenza sleale da parte delle nazioni per prime nel senso che finché i contributi vengono dati solo a chi si serve di determinate sementi le regole vengono fatte solo per chi lavora più di tot ettari perché chi ne lavora meno facendo tante colture con rotazione frequente non riesce assolutamente a star dietro alla burocrazia insomma finché le nazioni e la finanza prediligono questi modelli agroindustriali a quelli di nicchia le piccole aziende agricole dovranno tenere sempre i prezzi molto alti e resteranno quindi anche invise a molti consumatori che ipotizzeranno una qualche speculazione una qualche esagerazione e che quindi non riusciranno ad affezionarsi a queste aziende agricole e questo è un problema serio e reale per quanto il consumatore dica si te sei anche bravo so che fai le cose fatte bene ma tutti quei soldi là no non è possibile che tu me la presenti per mi presenti l'asparago a 7 euro al chilo quando al supermercato lo trovo a 2,5 prezzi reali ok ti ringrazio Dimitri ultima domanda anche per Ugo Biggeri anche economia reale è un termine che spesso ricorre nei comunicati di banca etica puoi spiegarci effettivamente come la finanza etica impatta sull'economia reale tocca parlare di economia reale perché c'è tanta finanza di carta l'ho accennato anche prima la finanza oggi in proporzione fa molto poco credito e fa molti affari invece sui mercati internazionali comprando prodotti diciamo liquidi o comunque sia immediatamente vendibili che poi sono prodotti finanziari strutturati che hanno molto poco a che fare con l'economia reale se ce l'hanno ce l'hanno in maniera molto indiretta tu stessa hai accennato l'andgrambing i futures i derivati cioè tutti strumenti che consentono diciamo appunto di operare su quelli che saranno gli andamenti futuri dei mercati ma non riguardano la compravendita di qualcosa allora economia reale è un termine che è abbastanza comprensibile per dire occuparsi di cose che hanno a che fare con le persone con le imprese con le attività le attività produttive ecco io penso che in questo ci sia anche una sfida per la finanza etica e per banca etica la finanza etica nasce dicendo cercando di dare una risposta ai consumatori che è quella di dire dove sono i miei soldi cosa fanno i miei soldi in questa questa risposta almeno banca etica la dà da anni è stata la prima banca al mondo è una delle poche che mette tutti i finanziamenti sul web quindi chiunque può andare a vedere almeno i finanziamenti delle persone giuridiche per che cosa sono stati dati se c'è l'agricoltura biologica se c'è l'associazionismo eccetera però nella tua domanda c'è anche una sfida abbastanza nuova per la finanza etica è quello di riuscire effettivamente a misurare gli impatti e quindi anche a darsi se vogliamo degli obiettivi in funzione degli impatti cioè voglio voglio sapere quanti migranti sto aiutando che effettivamente sto aiutando in più perché senza l'intervento di banca etica quella tale organizzazione non sarebbe riuscita ad accoglierli beh questo tipo di misure sono misure che forse sempre più servono anche per dimostrare che poi ci sono degli impatti concreti allora da una parte sì banca etica può dire io faccio la mia grande parte dell'attività sono crediti andate a vedere i crediti fate le somme dei crediti quelli erogati sono 800 milioni di euro lì c'è 800 milioni di finanziamento di economia reale però forse la sfida che ancora di più dobbiamo cercare di rispondere è saper declinare questi 800 milioni che benefici hanno portato alla comunità qualitativamente li sappiamo perché i nostri i nostri crediti sono scelti da anche da non solo dai nostri dipendenti ma anche dai valutatori sociali eccetera però da un punto di vista l'impatto di cambiamento è una sfida che stiamo cercando di cogliere e che pensiamo di vada colta per il futuro ok grazie Ugo grazie ancora Dimitri siamo in chiusura ringrazio tutti gli spettatori che sono intervenuti qui allo Sherwood Festival chi ci ha seguito in streaming su Sherwood.it e ricordo che ora ci sarà tra poco la pillola del libro del giorno presentato qui allo spazio Sherwood Books e a seguire l'intervista agli Orange Car Crash che sono il gruppo che suonerà stasera qui allo Sherwood Festival spero che con la serata di oggi e con i relatori vi abbiano invogliato a coltivare l'amore per un mondo migliore e ora lancio un brano che sono gli scapè con Marina Leda Grazie a tutti